C'è stato il codice nero della chiusura del valico di Verghereto, dell'Ai45, perché c'erano importanti precipitazioni nevose sia nella montagna, il fumaiolo ha interessato, ma nel versante romagnolo, si parla di un metro di neve. Dunque ha creato sicuramente le ripercussioni che arrivano fino nella valle, se pensiamo che a Sansepolcro non c'è stata mai una precipitazione sporadica, però abbiamo avuto dei problemi di viabilità e dunque valutiamo queste cose. Il piano neve ha funzionato, ha funzionato bene perché a Pierantonio c'è stato un primo filtraggio, un secondo a Sansepolcro, c'è stato degli ammassi di veicoli pesanti, però c'è stata una risposta interessante. Purtroppo il primo filtraggio è avvenuto alle 17 quando ha coinciso con le uscite dalle fabbriche, noi abbiamo l'uscita che è fra la zona industriale e la città, dunque la rotatoria di uscita dell'Ai45 è stata impegnata in modo significativo che ha creato notevoli disagi per rientro dalla zona industriale.